Ci troviamo a Mantova, in piazza Sordello, lì dove ogni giovedì si tiene il mercato di origine gonzagesca e tra i banchi molti profumi e molte le merci attualmente in commercio. E di questi giorni la notizia della città di Wuhan, del suo mercato, del coronavirus e di quel ceppo che a quanto pare è stato individuato soprattutto tra gli animali selvatici. Una megalopoli da 11,6 milioni di abitanti in Cina attualmente è circoscritta e in quarantena tale per cui c'è una situazione di desolazione. I droni lo mostrano, la preoccupazione è altissima a livello internazionale, forse c'è stato molto non detto ma a noi la curiosità di tenere comunque i fari accesi e illuminati su quello che non è il dietro la porta è ancora in casa nostra, è il mondo.